Allora, Saverio di Bari, uno dei protagonisti ormai tutti gli anni, non ti manchi mai questo appuntamento, di apertura della stagione, una stagione che per te sarà? Sarà molto intensa quest'anno, si farà a Dubai il primo gran premio EHC, dedicato a Endbike, e lì si vede già, incominciamo già a vedere il livello della stagione. E quando? Il 4 di marzo, si partirà il 29 febbraio, si sta una settimana a Dubai e così si fa questa prima esperienza internazionale. Senti, il 2012 è un anno olimpico? Sì, infatti quest'anno l'obiettivo principale è entrare in nazionale, l'anno scorso non ci sono riuscito, però quest'anno vediamo di farcela, di entrare in nazionale. Ecco, senti, Saverio allora, per chi non lo sapesse, tu quanti anni hai? Io ho 37 anni, faccio 37 anni il 23 febbraio, l'anno scorso è stata un'annata bellissima, ho indossato per 5 tappe la maglia rosa al Giro d'Italia e l'ho persa per 5 punti alla fine dell'anno, alla fine del giro. Quindi ho vinto due tappe, mi sono piazzato parecchie volte nelle buone posizioni, è stata un'annata, sono rimasto contento della stagione. Bene, allora noi ti facciamo il migliore bocca al lupo per il 2012, che i tuoi obiettivi possano essere raggiunti e naturalmente tenere alto anche il nome di questa provincia d'Imperia. Infatti volevo ringraziare gli organizzatori di oggi, che ogni anno mi invitano, sia la famiglia Lanzo, è sempre vicino a me, via. Grazie.